Jingle and bell, jingle and bell, jingle and away, belle andare col cavallo sulla neve bianca, jingle and bell, jingle and bell, jingle and bell. Espressioni di natività, è giunta la quattordicesima edizione, la mostra di presepi allestita a San Pietro in Guina, augurata la presenza dei bambini e delle famiglie. Una grande festa, l'occasione per scambiarsi gli auguri, consegnare dalle mani del sindaco Gabriella Bassi un omaggio ai ragazzini delle scuole. Ecco! Siamo arrivati alla quattordicesima edizione della mostra dei presepi, presepi fatti da voi, che sono esposti qui per tutto il periodo di inizio e di cui noi vi ringraziamo finora tanto, soprattutto i bambini. Io vedo i bambini lì davanti e dico grazie, grazie, grazie bambine. Sì, grazie a tutti i bambini. Grazie a tutti i bambini!